Si potenzia l'apparato tecnologico dell'ospedale di Sapri e ben presto la radiologia dell'Immacolata si doterà di un nuovo mammografo acquistato in questi giorni per un costo di 166.504 euro. L'apparecchio sarà infatti impiegato nel reparto dove si effettuano gli esami diagnostici e per tutte le richieste di specifiche valutazioni del seno. Si tratta di un sofisticato strumento digitale e di ultima generazione e andrà a sostituire l'oramai obsoleto mammografo analogico. Il nuovo apparecchio, riferisce il dottor Francesco Muto del reparto in questione, fornirà l'immagine radiografica della mammella con un'esposizione ai raggi X molto bassa, tenuto conto anche dell'avanguardia del macchinario impiegato che offrirà dunque una procedura che garantisce sicurezza. Ora, aggiunge il dottor Muto, aspettiamo solamente l'arrivo di un ecografo. Soddisfatta l'assemblea territoriale di cittadinanza attiva Sapri-Golfo di Policastro che riferisce. È un segnale che le cose stanno andando in una determinata direzione, si sta lavorando per sistemare il precedente decennio di totali inattività. I risultati stanno arrivando e stiamo sanando punto per punto. Il prossimo obiettivo sarà l'acquisto di ulteriori apparecchiature che utilizzano gli ultrasuoni.